Bene, buongiorno a tutti carissimi e bentornati in questo spazio di riflessione e di condivisione. Quest'oggi proviamo a riflettere un po', brevemente, l'intervento di Sara Cunial rispetto al decreto liquidità. È la dichiarazione di voto di Sara Cunial al decreto liquidità. Vi manderò dopo la mia, spero breve, introduzione, l'intervento intero dura pochissimo. Cosa vorrei dirvi, condividere con voi prima delle parole dell'onorevole Sara Cunial? Vorrei farvi notare, se poi guarderete il frammento, che punti tratta, cose che abbiamo trattato anche noi nei video precedenti. Uno in particolar modo riguarda l'amico Zonin e la Banca Popolare di Vicenza. L'ho toccato ieri, fatalità, questo tema, in un video che, per chi non l'avesse visto, vi consiglio di andarlo a vedere, perché è uno, forse, dei miei video più importanti, come liberare il paese dai politici e dal coronavirus. Ovviamente è inteso non dai politici in generale, ma da questa classe politica, da questa fase, da questa ideologia politica che si sta portando avanti da parecchio tempo, che, come la definisce Sara Cunial, è un culto neoliberista del debito, indebitarsi sempre di più. Cioè, questo paese si sta indebitando sempre di più e ci fa perdere sempre più proprietà, sovranità, dignità. Allora, in quel video, come liberare il paese, parlavo della Banca Popolare e dicevo come si sia persa la giustizia, l'onestà, l'amore verso i propri stessi parenti. E citavo, appunto, la vendita di azioni assolutamente fasulle, azioni che non valevano più nulla, sino all'ultimo giorno, da parte della Banca Popolare di Vicenza, ma poi la Banca del Veneto, Carrige. Abbiamo assistito al crollo del sistema bancario del nord-est Italia, in particolar modo, e tutto è passato parecchio, sotto tono. E, capite, se già il sud Italia ha molti problemi, sfasciamo il nord-est Italia attraverso il crollo di tutte le banche. Adesso abbiamo sfasciato il nord-ovest, la Lombardia, il Piemonte, la Lombardia in particolar modo, con il coronavirus. O Dio ci odia particolarmente, o abbiamo una classe dirigente che sta seguendo tutt'altre logiche. E questo lo esplicita, chiaramente, nel suo intervento Sara Cunial, secondo me. Ed è quello che cerco di condividere con voi. Cioè, di uscire dallo schema destra e sinistra, ma di vedere magari questi interventi, che non sono di destra e di sinistra. Provate ad ascoltarli, anche il precedente intervento. Non chi li conosce già, chi ormai lavora da tempo dentro questa consapevolezza, come li chiamo io e i miei fratelli. Ma passatelo anche ad altri. Sentite la voce, come è diversa, di questi discorsi. Non sono di destra e di sinistra, non stanno parlando dei migranti, la barca sì, la barca no, le patatine fritte sì o no. Che così ci friggono il cervello. Perché non sono i temi rilevanti. Quando tu sistemi l'economia, quando tu sistemi la spina dorsale del paese, allora vedrete che troviamo la risposta corretta ai migranti. Ma quando parliamo di migranti e basta, e il paese va in declino sempre di più perché non vengono toccate veramente le cose importanti, ecco che sono certo che c'è l'intenzione di distrarre, di confondere, di frammentare l'unità, il cuore di un paese. E noi abbiamo una popolazione distrutta, frammentata, non si riesce a parlare con le persone. Allora, solo una precisazione sul discorso banca popolare e poi vi lascio al discorso di Sara Kunial, perché nel mio video precedente mi è stato messo un commento sotto, dove il commento dice Rispetto alla tua analisi sulla banca, i banchieri, sei stato superficiale e lo dice uno che ha fatto una scelta cambiando. Credo che intenda, lavoravo in banca, ho fatto una scelta etica uscendo da quel sistema. Poi vi prego, se fate dei commenti importanti, cioè almeno pensate che siano importanti, o dite che sono stato superficiale, non fate un commento di tre parole, perché, insomma, capite, dire a uno che è superficiale, essendo ancora più superficiali, poi parleremo del nulla. Prendo questo commento solo per dirvi che cosa mi ha mosso dentro e che cosa ho condiviso, magari non correttamente rispetto al commento, perché è troppo scarno per riuscire a capire qual è veramente il significato di questo commento. Allora ho risposto, scusami tu se mi permetto, ma qui a Vicenza ho seguito diverse persone e famiglie travolte dal disastro Banca Popolare di Vicenza attraverso i miei incontri di counseling. Sapete che, al di là di questi video, faccio incontri di counseling. Il counseling filosofico è una relazione d'aiuto. Seguivo le famiglie, seguivo adolescenti, nelle loro dinamiche interne di crescita o di crisi. Se volete, nelle informazioni, riporto esattamente cos'è il counseling filosofico. Lo trovate anche su internet, basta informarsi per chi non lo sapesse. Allora, nella fase crollo Banca Popolare, dato che qui c'era la disperazione, ho seguito varie persone attraverso dei programmi gratuiti, dato che non avevano più una lira, tanto per... Allora, mi sono trovato a leggere documenti, sono stato a riunioni fra banca e soci, fra singoli individui, con l'avvocato, cioè la persona, l'avvocato, e andavo a fare da sostegno, perché uscivano distrutti. Quindi un po' ne so di cosa facevano, di cosa dicevano, di quante bugie ho sentito per due anni. Allora, dico all'amico, non è certo un'esperienza universale la mia, non è la verità assoluta, come posso. Non è che ho conosciuto tutti quelli che lavoravano in banca. Ma dopo tutto ciò che ho visto e sentito, ti dico, vi dico, che dal mio umilissimo punto di vista non sono stato superficiale nel video precedente, ma ho voluto chiudere in breve perché volevo essere moderato ed educato. Perché con quel che ho visto, alla fine ho notato unicamente una banda di ladri schifosi, scusate, ma così scrivo, dal ragazzetto che piazzava azioncine, che erano carta straccia, faceva investire i risparmi di pensionati, persone che non avevano nemmeno la pensione, ma avevano un capitale che era la loro pensione da mettere lì, in carta straccia. Quindi dal ragazzetto che vendeva qualcosina ai capi area, quelli che piazzavano giù centinaia di migliaia di euro. Ho visto bugie su bugie, proprio quando ormai tutti sapevano che la banca era prossima al crollo, e queste persone non riuscivano più ad essere liquidate, ma gli promettevano, anzi, li facevano investire ancora di più, perché loro stavano tentando di salvarsi, praticamente mostrando dei bilanci farlocchi, ma su questo, appunto, come rispondono i nostri politici più delle volte, quando sono stati intervistati e gli è stato chiesto cosa farete per Banca Popolare, cosa farete per Carrige Banca del Veneto, ci sono delle inchieste. Benissimo, stanno passando gli anni, le persone sono morte, stanno aspettando che muoiano tutti, perché sono, la maggior parte, persone anziane. In particolar modo ho seguito una nonnina che era in perfetta salute, avrà avuto 82 anni. Certo, vecchia, ma avete visto per il Covid quando moriva un 85enne, giornali, telegiornali, mio Dio è morto per Covid, o magari si salvava. Giustissimo. Allora questa, questa che è morta di crepacuore, il giorno dopo che le hanno dato la notizia che le azioni erano irreversibilmente a zero e praticamente non aveva più denaro, niente, questa, chi se ne frega, perché aveva dei soldi, era una capitalista, stavamo parlando di 50-60 mila euro a 85 anni, tutto quello che le restava. Che cos'era? Una malevola capitalista? e qua mi collego all'altro fatto che vi raccontavo ieri. Repubblica intervista Soros, oggi lo pronuncio giusto, Soros, esplicitando a tutti gli italiani la grande idea che ha Soros per salvare l'Italia dalla crisi economica, quel finanziere, speculatore selvaggio che ha distrutto l'economia inglese e italiana qualche decina d'anni fa. Allora, la vecchietta per una certa politica è una speculatrice che tutto sommato aveva messo i suoi ultimi soldi e quindi chi se ne frega, Soros invece, come mi hanno scritto soggetti piuttosto sinistri, sinistri nel senso oscuri, Soros è vittima di un complotto, ma volete uscire da queste cose? È un complotto che ha fatto una speculazione sulla moneta, sulla lira, la sterlina e ha mandato in crisi questi paesi? Sì, certo, la legge lo permetteva. C'era un buco, c'era una falla nel sistema, ma quella persona è un po' come dire casa tua è... non proprio casa tua, ma hai lasciato di fronte alla porta, di fronte al cancello di casa, hai lasciato una borsa. Passo, non vedo nessuno e aspetto un po', la porto via, più o meno, dai, porto via la borsa e c'erano tutti i tuoi soldi dentro. C'era una falla nel sistema, hai lasciato la borsa fuori. Benissimo. È una brava persona? No. Cosa ha fatto l'Italia? Ha detto a questa persona perlomeno non sei più gradita nel nostro paese? No. Gli ha dato una laurea ad Honorem, a Bologna. Allora capite che c'è un sistema ovviamente di interessi e di elite e qualcuno mi scrive che è la solita storia dei complotti. Ma qua qualcuno gli hanno veramente spianato la mente, il pensiero. Allora, Kunial, sentite il discorso, cercate di sentire gli ultimi discorsi di questo parlamentare perché laddove c'è un po' l'ultima luce, vedete di tenerla accesa, di portarla un po' nella vostra mente, sentite quanto è lontana dalle solite speculazioni pagliacce, destra e sinistra, che servono per frammentare il popolo, distrarlo e nel frattempo svaliggiargli l'anima e la casa. Ci ricorda che un personaggio come Stiglitz, Stiglitz, premio Nobel per l'economia del 2001, o ad esempio Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, hanno dato dei potenti consigli al sistema Italia, alle istituzioni italiane su come rispondere a questa crisi, ad esempio stampando e mettendo biglietti di Stato ad uso interno, buoni emessi dai comuni, che sono manovre che ci possono permettere di far ripartire l'economia all'interno del paese senza indebitarci e senza oltretutto uscire dall'euro. Quindi se non vengono prese in considerazione è evidente che non c'è l'interesse di fare, non c'è questa idea di Europa unica, a questi personaggi non gli interessa nemmeno quello, c'è l'interesse di impoverire le persone, c'è l'interesse di spianare la classe media e anche la classe più povera, perché mancando totalmente la classe media, ne ho parlato, mi sono dilungato molto in un video, del ponte, la classe media è un ponte tra i più poveri e i più ricchi e quel ponte può essere percorso. Se io faccio saltare il ponte, la classe media sprofonda nella povertà e più poveri ci sono più diviene, più aumenta la guerra tra poveri e ci si impoverisce sempre più. e Soros verrà intervistato sempre più, Bill Gates che non ha nessun interesse nell'OMS, nei farmaci, nei vaccini, verrà intervistato sempre più, perché la gente non riesce nemmeno più a capire che dei multimiliardari che hanno il capitale più grande di un paese non sono le persone che dovrebbero stare a comandare o a dare le direttive a governi, sovrani, a democrazie. Sinistra, destra, là, la gente si perde là, perché il mainstream, chiedetevelo, è un mese che dico che farò un video su questa cosa, siete là a destra o siete a sinistra? Il mainstream ti fa passare Salvini che dice le sue, ti fa passare Zingeretti, ti fa passare Renzi, Renzi, che aveva promesso, ha fatto l'esatto contrario di tutto ciò che ha promesso, ha il 3%, non lo vuole più nessuno, però è in tv che parla, quindi capite che queste persone sono lì a parlare perché servono al sistema del potere, Cunial non la troverete mai sul Tg1, chiediamoci perché, perché ha centomila persone, non perché dice sciocchezze, ma perché non la fanno passare, come vi ho detto l'altro giorno, questo libro qui non lo fanno passare, perché certe cose sono talmente vere che se passassero e allora si verificherebbe quel che Cunial dice alla fine, cioè voi dovreste rispondere di vilipendio al popolo sovrano italiano e dice ne risponderete se vinceremo ne risponderete e dietro sentite la curva sud, quelli sono veramente gli hooligans pericolosi perché hanno paura, perché sanno cosa stanno facendo, sanno che la pappa a fine mese è pronta, sanno che non stanno vivendo nella giustizia e nell'onestà e per creare un benessere collettivo, sanno che non tutelano le fasce più fragili, lo sanno e quindi non devono passare certi discorsi di Cunial, libri come questo, perché se passano la gente si sveglia, allora se non ce li fanno passare li dobbiamo far passare noi, li dobbiamo andare a prendere noi questi discorsi, perché ci svegliamo? vi lascio all'intervento e buona serata a tutti. non ci può essere ripresa né libertà né democrazia senza una moneta che sia bene comune. La liquidità può essere assicurata con il culto del debito neoliberista che abbiamo visto riconfermarsi in questo decreto o con la creazione di una moneta che come confermano anche Stiglitz e Maddalena potrebbe portare veramente il paese a riconquistare la propria sovranità monetaria e quindi liberarci dallo strozzinaggio delle lobby finanziarie. I trattati europei sono norme interposte tra la nostra Costituzione e la legislazione ordinaria e ci consentono di emettere biglietti di Stato ad uso interno come prevede anche l'articolo 117 della nostra Costituzione. Questi biglietti di Stato potrebbero rappresentare un mezzo di pagamento alternativo e complementare rispetto all'euro, cioè una moneta finalmente positiva a corso legale o meno nel territorio nazionale. Un mezzo quindi immediato per risollevare le sorti di questo paese dei suoi cittadini, così come quello dei buoni emessi dagli stessi comuni che avevamo proposto in un emendamento, come vere e proprie cambiali spendibili nel territorio comunale anche per le stesse tasse, cosa che consentirebbe di moltiplicare perenne volte il valore generato tanti quanti sono i giri che il buono riesce a fare prima di rientrare nelle casse comunali. Tutto ciò si potrebbe fare da subito, senza attendere un referendum per l'uscita dell'euro di cui peraltro e per cui peraltro il Movimento si era tanto prodigato a prendere le firme o chissà quale benedizione dall'Europa. Ma questo di certo non può essere nemmeno pensato da chi favorisce gli amici banchieri come Zonini e Compani che hanno fatto fallire e soffrire che ha consegnato ruolo alla fiducia e il valore della propria vita o chi ha privilegiato svendendo ad un euro in una notte i nostri risparmi alle azioniste del nostro patrimonio mobiliare come intesa o a chi come il partito di Renzi e i suoi adepti è troppo impegnato ad ristricarsi tra lo scandalo degli amici di Palamara o l'Obamagate. Ci ricordiamo bene gli incontri tra Obama e Renzi nel 2016. Ce li ricordiamo noi e se li ricordano anche i servizi segreti di Trump che stanno investigando. Tantomeno possono essere cari i colleghi del Movimento 5 Stelle che con questo misero 3% di consensi del Renzi accettano di scendere a patti per salvare la propria pelle e barattarla con quelle dei cittadini italiani. Voi amanti del debito e del signoraggio presto sarete accusati del reato di vilipendio nei confronti del popolo sovrano. Ci riprenderemo tutto e questa volta veramente vi faremo pagare noi l'interesse. Grazie.